L'epatocarcinoma, cioè il tumore al fegato, è una delle prime cause di morti oncologiche nel mondo. Secondo una recente indagine nazionale, una delle richieste principali avanzate dai pazienti è la riduzione del tempo di diagnosi, perché questo tipo di tumore si sviluppa velocemente. Noi abbiamo intervistato un gruppo di 150 malati e circa il 20% di queste persone non sapeva di avere né una cirurgia né un tumore e non era mai stata controllata. Dopo esiste un altro problema, le persone non conoscono le strutture di eccellenza, dove i pazienti con tumore al fegato possono essere presi in carico velocemente. Questo vuol dire che il tempo passa e il tumore non aspetta. Per fare il punto dei percorsi di presa in carico dei pazienti con epatocarcinoma in Emilia-Romagna, si è svolto a Bologna l'incontro uniti e vicini ai pazienti con epatocarcinoma. Promosso da Roche con il patrocinio di Epac Onlus, l'Emilia-Romagna è l'avanguardia sia per la creazione di una rete regionale oncologica, sia per la presenza di strutture di eccellenza ad alta specializzazione. L'epatocarcinoma mette insieme diverse competenze, quindi la necessità dalla prevenzione alla buona diagnostica, agli interventi locoregionali che possono essere radiologici, ma anche i chirurgici, le resezioni fino ai trapianti di fegato. In Emilia-Romagna abbiamo due tra migliori centri internazionali per il trapianto a Modena e a Bologna e quindi quello che mi riguarda la terapia medica, oggi l'introduzione dell'immunoterapia, la combinazione a tensulizum e a bevacizum ha migliorato la sopravvivenza nei pazienti con malattia non resecabile e non trattabile localmente, ma oggi abbiamo dati importanti anche sul trattamento aiutante. Obiettivo della rete regionale oncologica è anche di garantire la massima qualità di cura su tutto il territorio, senza differenze di trattamento nelle varie aree della regione. Combattere le unwarrant variation, cioè le variazioni ingiustificate, è il compito di qualsiasi direttore sanitario, di qualsiasi sistema sanitario di qualità. Allora, noi dobbiamo lavorare per ridurre al minimo queste variazioni, in modo che tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza e da qualsiasi altro parametro, abbiano la risposta migliore e dobbiamo garantirla in prossimità ovunque nella nostra regione. Oggi, grazie ai nuovi farmaci disponibili, la prognosi del tumore al fegato è in miglioramento e i team multidisciplinari, composti da diversi specialisti, possono individuare il miglior trattamento possibile per il paziente. Se io riesco con i farmaci a ridurre la malattia, a controllarla e quindi la zona malata si rimpicciolisce, riesco a portarla via o trattarla perché rimane una sufficiente quota di fegato a gestire la funzione e quindi questo necessita dei più specialisti che lavorano tra di loro. Sono pazienti che devono venire presi in carico da un centro che si occupi di loro in tutte le fasi della loro malattia. Diventa un po' un'alleanza tra paziente e medici che prendono in carico il paziente e in Emilia Romagna, di questi centri che permettono l'alleanza, abbiamo un'eccellenza nazionale e internazionale. Grazie a tutti.